Notizia con una certa sorpresa e anche naturalmente con molta amarezza se mi permette, una volta che ho saputo le ragioni di queste dimissioni, io non entro nel merito perché non mi compete per rispetto alle decisioni del Consiglio e per rispetto anche del collega a questo punto, io sono ex ma comunque idealmente mi sento ancora parte della magistratura. L'ex procuratore capo Antonio Fogliadelli non entra nel merito della vicenda che ha coinvolto l'ormai ex presidente del Tribunale di Treviso Giovanni Schiavon. La diplomazia che ha caratterizzato la carriera di Fogliadelli negli anni trascorsi al servizio della giustizia non lo ha abbandonato anche ora che è in pensione. E' un uomo che si è impegnato a fondo per far funzionare un meccanismo in difficoltà, io per quanto mi riguarda, ripeto, ne abbiamo discusso spesso, ci siamo trovati spesso d'accordo. Procuratore capo presso il Palazzo di Giustizia Trevigiano dal 1997 Fogliadelli ha assistito all'arrivo di Schiavon nel 2008, anno in cui il magistrato ha assunto il ruolo di presidente e ricorda così l'arrivo di quel collega dai modi un po' burberi ma sempre in prima linea sul fronte del rinnovamento del sistema giudiziario. I nostri rapporti sono stati sempre eccellenti, a parte alcune divergenze ma questi fanno parte della dialettica umana e soprattutto della dialettica professionale.